Sono due i nuovi positivi al coronavirus registrati in Campania nella giornata di ieri. A renderlo noto l'unità di crisi della Regione Campania che ha comunicato gli esiti dei 1135 tamponi effettuati nei vari centri di riferimento del territorio regionale. Sabato invece sono stati quattro i nuovi positivi registrati su un totale di 2494 tamponi effettuati. Il totale dei positivi in Campania sale a quota 4828 su un totale di 219.033 tamponi effettuati.